A poche ore dal funerale di Angelo Zen interviene la famiglia del tecnico orafo rimasto vittima del tremendo terremoto in Turchia e Siria. Esprimiamo gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che in questi giorni di attesa e dolore hanno fatto sentire personalmente per iscritto nei momenti di preghiera la loro vicinanza e il loro sostegno, si legge nel messaggio dei familiari di Zen. La sofferenza che ha colpito la nostra famiglia, scrivono ancora, si somma al dramma che le popolazioni turche e siriane continuano a vivere. L'incredulità, la speranza e l'attesa hanno reso questi giorni un tempo sospeso. Sono stati giorni effettivamente di sofferenza e di raccoglimento per la famiglia e anche per molti all'interno della nostra comunità e di conseguenza il loro messaggio va anche a diffondere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e che sono stati vicini in queste settimane di attesa. Da loro viene definito proprio tempo sospeso, è stato un tempo sospeso anche per noi, per le istituzioni, per tutti coloro che hanno cercato di infondere speranza fin tanto che è stato possibile e di dare anche il supporto necessario quando è arrivata la triste notizia. I funerali di Angelo Zen si terranno domani alle 15 nella chiesa di Fellette, il paese d'origine della famiglia Zen. Abbiamo avuto informazioni dalla Farnesina che parteciperà, il responsabile dell'unità di crisi, Nicola Minasio, che è stata la persona che in queste settimane è sempre stata in contatto con la famiglia proprio per aggiornarli e dare l'ufficialità rispetto a quelle che erano gli accadimenti in Turchia. Avremo anche una rappresentanza della regione e ci saranno evidentemente sottoscritto il sindaco di Martellago. Zen da qualche anno infatti viveva a Maerne di Martellago ma ha sempre mantenuto un forte legame con Romano Dezzelino dove ancora risiedono i figli e i parenti. Le due comunità domani si stringeranno alla famiglia per l'ultimo saluto all'imprenditore che ha perso la vita sotto le macerie dell'hotel crollato in Turchia.